L'allarme è scattato verso la mezzanotte quando il corpo senza vita di Giovanni Meloni per gli amici Luca è stato trovato riverso su una panchina del parchetto di via Montetumba a zero branco. Un passante che si è accorto per primo del corpo esanime insieme ad alcuni abitanti della zona ha chiamato il SUEM 118 e dei carabinieri. I medici arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo ma per il 47enne purtroppo non c'era più nulla da fare. A quanto pare l'uomo non era in compagnia di nessuno stava mangiando da solo una pizza comperata poco lontano. La prima ipotesi sulla causa della morte per gli investigatori è il malore improvviso anche se si dovrà capire perché il volto e il naso presentassero alcune tumefazioni. Le indagini sono in corso. La notizia ha creato sconcerto e rammarico. L'ultima notizia che avremmo voluto sentire questa mattina qua in paese quindi la scomparsa di un uomo di 47 anni qua in un parchetto pubblico in centro a zero branco. Probabilmente se questo fosse successo a casa i familiari avrebbero potuto attivare fin da subito i mezzi di soccorso. Luca non era molto conosciuto perché non era originario di zero branco prima di stabilirsi da aprile 2020 presso l'abitazione della madre poco lontano dal parchetto viveva a Udine. Il corpo è stato ricomposto all'obitorio di Treviso sarà ora l'autorità giudiziaria a prendere eventuali provvedimenti.